Alla fine di un pranzo tra uomini, al momento dei sigari assaporati pian piano e degli innumerevoli bicchierini trasbuffate di fumo e nel torpore caldo delle digestioni, nel lieve stordimento dovuto alla carne e ai liquori ingeriti e mescolati, qualcuno cominciò a parlare di magnetismo, delle prodezze di Donato e degli esperimenti del dottor Charcot. Subito quegli uomini scettici, cortesi, indifferenti, verso qualsiasi religione, cominciarono a raccontare episodi curiosi, storie incredibili ma vere, assicuravano, ricadendo bruscamente in credenze superstiziose, aggrappandosi a queste ultime idee del fantastico, diventando fautori del mistero del magnetismo e difendendolo in nome della scienza. Uno solo sorrideva, un giovanotto ben piazzato, gran frequentatore di puttane e gran cacciatore di femmine. Sarà ancorata in lui un'incredudità totale e con tale forza da non ammettere nemmeno la possibilità di una discussione. Ripeteva, sogghignando, chiacchiere, 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 non parliamo di Donato che è soltanto un bravissimo illusionista. Quanto al signor Charcot, che dicono sia scienziato eminente, mi sembra uno di quegli scrittori sul genere di Edgar Poe, che finiscono per impazzire, a forza di pensare a strani casi di follia. Charcot si è limitato a constatare alcuni fenomeni nervosi, inesplicati e tuttora inesplicabili. Egli procede in questo mondo ignoto su cui continuiamo a indagare, e non riuscendo sempre a comprendere quel che vede, si ricorda forse troppo delle motivazioni della Chiesa sopra ai misteri. E poi vorrei sentirlo parlare. Forse sarebbe tutt'altra cosa rispetto a quanto voi ripetete. Attorno a quell'incredulo si produsse una specie di moto di pietà, come se si fosse permesso di bestemmiare in un'assemblea di frati. Uno dei presenti esclamò, eppure un tempo avvenivano miracoli, ma l'altro ribatté, no, lo leggo, perché adesso non ne accadono più? Allora ciascuno raccontò un fatto, presentimenti fantastici, messaggi dell'anima attraverso enormi distanze, segrete influenze di una persona su un'altra. Essi confermavano, si dichiaravano fatti indiscutibili, mentre il negatore accanito ripeteva, storie, fandonie, fandonie. Alla fine salzò in piedi, gettò via il sigaro, si mise le mani in tasca e proruppe. Ebbene, ora voglio raccontarvi anch'io un paio di storie, e dopo ve ne darò la spiegazione. Ecco qua. Nel paesino di E3, gli uomini fanno tutti i marinai, e ogni anno vanno a pescare il merluzzo ai banchi di terra nuova. Ora, una notte, il figlioletto ad uno di loro si svegliò di sopplassalto, gridando che il suo padre era morto in mare. Calmarono il bambino, ma si svegliò nuovamente urlando che suo padre era annegato. Un mese dopo si venne a sapere che il padre era morto veramente, spazzato via da un'ondata gigantesca mentre era sul ponte della nave. La vedova si ricordò i bruschi risvegli del piccolo. Gritarono al miracolo, tutti si commossero. Confrontarono le date e videro che il giorno della disgrazia concideva prossimamente con quello del sogno. Se ne trasse la conclusione che era successo tutto nella stessa notte, nella stessa ora. Ed ecco un mistero del magnetismo. Il narratore fece una pausa. Allora, uno di coloro che erano stati ad ascoltarlo domandò turbato. E voi potete dare una spiegazione a questo fatto? Certo, signore. Ho trovato il segreto. Ero stato sorpreso da questa vicenda, neanche abbastanza imbarazzato. Io però, vede, per principio non credo a niente. Proprio quando alcuni cominciano a credere, io inizio a dubitare. E quando proprio non capisco, continuo a negare qualsiasi comunicazione telepatica delle anime. Certo che è sufficiente la mia sola perspicacia. Ebbene, ho cercato, cercato. E a forza di interrogare tutte le mogli dei marinai assenti, ho finito per convincermi che non passavano otto giorni senza che una di loro o uno dei loro figli sognasse e annunziasse al risveglio che il babbo era morto in mare. Il timore tremendo e costante di quella sciagura fa sì che esse ne parlino sempre e vi pensino in continuazione. Ora, se per un caso semplicissimo una di queste predizioni coincide con una morte, subito gridano al miracolo perché vengono dimenticati tutti gli altri sogni, tutti gli altri presagi, tutte le profezie di sciagure rimaste senza conferma. Per mio conto ne ho preso in esame più di 50, di cui gli autori non conoscevano alcun ricordo otto giorni dopo. Ma se di fatto l'uomo fosse morto, la memoria si sarebbe subito ritestata e alcuni avrebbero celebrato l'intervento di Dio, altri quello del magnetismo. Uno dei fumatori dichiarò «Il ragionamento è abbastanza convincente, ma sentiamo la seconda storia. Oh, l'altra è assai delicata a raccontarsi. Ne sono stato protagonista io stesso, perciò diffido un poco nel mio stesso apprezzamento. Non si è mai giudice parte in causa con equità. Ma insomma, ecco qui. Tra le mie conoscenze mondane c'era una giovane signora che non mi interessava affatto, che non avevo mai guardato attentamente, che non avevo mai notato come suol dirsi. L'avevo classificata tra le insignificanti, per quanto non fosse brutta. Insomma, mi pareva avesse occhi, naso, bocca, capelli senza caratteristiche particolari. All'insieme una visionomia quanto mai sbiadita. Infatti era una di quelle persone sulle quali il pensiero sembra posarsi solo per caso, senza potervi si fermare. Una persona che nessuno potrebbe desiderare. Durante l'anno la vedevo cinque o sei volte. Un paio di visite e qualche incontro nei salotti. Tutto qui. Ora, una sera, mentre stavo scrivendo qualche lettera accanto al fuoco, prima di andare a letto, tra quelle idee senza costrutto e quel caleidoscopio di immagini che ci sfiora il cervello, quando restiamo per qualche minuto a fantasticare con la penna sospesa, ho sentito un lieve soffio sfiorarmi la mente, come un brivido del cuore appena percettibile. Immediatamente, senza ragione alcuna, senza nessun logico concatenamento di pensieri, ho visto distintamente, come se potessi toccarla dalla testa ai piedi, nuda, senza neanche un velo, quella giovane signora qualunque, a cui non avevo mai pensato per più di due secondi, appena al tempo perché potessi ricordare il suo nome. E subito scopersi in lei tanti pregi che non avevo notato, un fascino tranquillo, una languida attrazione. Ella risvegliò in me quell'inquietudine amorosa che ci spinge a corteggiare una donna. Ma non ci pensai a lungo, andai a letto, mi addormentai e sognai. Credo che abbiate fatto tutti quei sogni strani che vi rendono padroni dell'impossibile, che vi schiudono porte invalicabili, che vi procurano gioie impensate, amplessi proibiti, non è vero? Chi di noi, in questi sonni inquieti, agitati, ansimanti, non ha tenuto stretta, carezzata, posseduta, con straordinaria acuità di sensazioni, la donna che era al centro dei nostri pensieri? E avrete certamente notato quali sovrumane delizie ci siano donate da questi amori del sogno, a quali folli e brezze vi abbandonano, quali intensi spasimi vi procurano e quale tenerezza infinita, carezzevole e penetrante vi infondono nel cuore per quella che state avvinghiando, bruciante e già vinta, in una illusione brutale e sublime che sembra realtà. Tutto questo ho provato con violenza indimenticabile. Quella donna è stata mia, talmente mia che il dolce tepore della sua pelle mi è rimasto tra le dita, il suo profumo mi è rimasto nel cervello, il sapore dei suoi baci sulle labbra, il suono della sua voce nelle orecchie, il cerchio della sua stretta intorno ai fianchi e il fascino ardente della sua tenerezza in tutto il corpo. E questo anche per lungo tempo dopo il mio risveglio dolce e ingannevole. Quel sogno si è rinnovato tre volte nella stessa notte. All'alba quella donna mi ossessionava, mi possedeva, mi occupava la mente e i sensi, a un grado tale che non potevo non pensare a lei neanche per un attimo. Infine, non sapendo cosa fare, mi vestii e andai a farle visita. Sulla scala ero tanto emozionato che tremavo, mi batteva il cuore, un vehemente desiderio, ma vi fa preso entieramente dalla testa ai piedi. Entrai, salzò in piedi di scatto appena udì pronunciare il mio nome. Subito i nostri occhi si incontrarono con una fissità sorprendente. Mi sedetti, malbettai le solite frasi che ella sembrò non udire. Non sapevo che dire, che fare. Allora mi buttai addosso a lei abbracciandola stretta. Tutto il mio sogno si realizzò così rapidamente, così facilmente, così follemente, che dubitai subito d'essere sveglio. È stata la mia amante per due anni. Che conclusione traete da tutto ciò, disse una voce. Il narratore sembrava eccitare. Concludo. Concludo che fu una coincidenza, caspita. E poi chi lo sa. Forse quella sera un suo sguardo mai notato prima di allora è tornatomi alla memoria per un richiamo misterioso e incosciente di quelli che spesso ci rappresentano cose trascurate, rimaste inosservate per il nostro intelletto. Un altro confitato concluse. Dite quel che volete, ma se dopo questa esperienza non credete al magnetismo, vuol dire che siete un ingrato, caro Signore.